Buonasera, buonasera a tutti. Oggi quello che si va a recensire, nei soliti 4-6 minuti, poi trovate a seguito anche la recensione per iscritto e la foto della copertina, è presente La marcia su Tomo, l'uccisione di un fascista a Catania e le trame di un ministro, edito da Eclettica Edizione, editore a firma del giornalista Fernando Massimo Adonia, un catanese del classe 82, un libro avvincente che affronta e spiega un po' la marcia su Roma, che non è solo su Roma, perché si chiama su Roma solo fatta a Roma, ma affronta cosa accade a Catania il 2 novembre dell'anno del Signore, 1922, quando un giovane che aderisce alle camicie nere, Carlo Amato, che in città a Catania ancora si trova qualche riferimento e ci sono delle foto all'interno pure del libro, un interessante lavoro di ricerca storica, che è finito nelle vetrine delle diverse città e non inganni il disegno così come è fatto, la scritta, c'è il riferimento storico, però non in librerie rigorosamente di destra, perché proprio è un'indagine del periodo del ventennio fascista, di questo pre-ventennio fascista e poi del ventennio, di questa uccisione che abbiamo avuto. Trattanto c'è anche l'intersecazione di due tra le più importanti famiglie catanesi, i Carnazza e i De Felici, come si scontano, come poi si alleano, come creano tanti casini, una vergogna. Fernando Massidonio in presente salva anche Mussolini da quello che erano invece i suoi angeli dalle camicie nere, dagli squarristi, perché si comportavano in una maniera che lui non voleva, non desiderava, appunto perché c'era il rischio che buttavano fango, infangavano quello che di buono poteva fare, che voleva fare il duce con il fascio. Ma sappiamo bene che il libero arbitrio dell'uomo, questa è una mia considerazione, lascia il tempo che trova. Io, dux, ti dico che questa cosa deve essere fatta in questa maniera, ma tu la fai e poi magari abusi di qualcosa. Ecco, aspetti minuziosi come questi qua vengono messi in auge dal bravissimo Fernando Massimo Adonia. Il libro non è recente, è uscito a gennaio di quest'anno, del 2017, beh in parte recente, in parte no, io l'ho letto durante il periodo di polmonite. La bellezza sta anche nel fatto che questa marcia su Roma come accade, come si presenta e i misteri e i dubbi che rimangono sempre sulla morte di questo giovane catanese, Carlo Amato, che non si è capito ancora chi lo ha ucciso, se uno stesso squadrista camerata come lui, se un gendarme, qualcuno che controllava perché si aspettava anche la visita di alti funzionali del fascismo, alte cariche del fascismo e anche quello del duce. Non nascondo di aver preso degli appunti perché proprio sono 200, 170 pagine, se non ricordo male, 171 pagine, ma molto minuziose, quindi qualche parola a spigolo l'ho messa per fare questa recensione, cioè un aspetto importante dove Fernando Massimo Adonia va a smontare anche Camilleri. Questo a me fa molto piacere perché la mossa classica di un bravo scrittore sicuramente lo sarà Camilleri, senza dubbio, però quando si crea un mito di scrittore e poi qualunque cosa si fa, un po' come i musicisti di quelli là che compriamo il disco a scatola chiusa e poi ascoltiamo il silenzio e diciamo sempre che è bravo, perché Camilleni per esempio nel suo privo di titolo racconta che Gigino Gattuso è l'unico giovane marchere fascista e morto per mano dei suoi stessi amici camerati, così non è. Perché? Perché Camilleri fa un'analisi, una disamina di un martirismo fascista, ma non è così, morti, giovani fascisti ce n'è tanti e non per mano dei camerati stessi e ripeto il libro di Fernando Massimo Adonia non intende essere un manifesto a favore del fascismo ma invece un'indagine storica, sia la scritta dei disegni che richiamano quel periodo ed è molto bello. Io sono catanese e ho una passione per quanto ci ho studiato anche così per la Roma, non posso essere che contento di questo libro, delle volte metto la maglia della Roma, oggi mi è sembrato doveroso mettere me la laglia, ha regalato Bastrini del Catania perché in questo libro, la mia passione sportiva del calcio è immensa, in questo libro si cita anche l'importanza del calcio Catania, della sua nascita, di come si evolve, ricrolla e riparte e sempre grazie a intersecazione del periodo del ventennio fascista. Il 2 novembre muore Carlo Amato, chi lo uccide? Molti si muovono, ci sono dei dubbi anche sull'onestà intellettuale del duce, a fine che addirittura ci sia uno degli elementi della famiglia Carnazza, Gabriello Carnazza che diventa ministro dell'interno, un ministro fiancheggiatore, lui che era contro il fascismo, quindi dei dubbi su quanto accade. Presente in tutte le librerie, non nelle librerie destrodipendenti, se mai ne esistessero ancora, ma lo si trova in vetrina, ha avuto una vetrina buona tra il giornale e il febbraio in tutto il territorio nazionale, una presentazione straordinaria a Giardini Naxos in Sicilia, da dove vi parlo, un libro che ha avuto delle recensioni importanti anche su Barbadillo e altri giornali. Fernando Massiadonia, presente la marcia su Roma, l'uccisione di un fascista a Catania, Carlo Amato, di 17 anni, e le trame di un ministro. Ecletti di edizione da valutare, leggere, perché è molto molto interessante, un'indagine storica romanzata. Ciao e alla prossima!